E' stata inaugurata al Museo Archeologico Castello dei Paleologi di Acquiterme l'esposizione di arte contemporanea con le opere di Luca Pancrazzi, Paesaggio Minuto, che durerà fino al 21 novembre 2021. L'evento è organizzato dall'Associazione Amici di Musei Acquesi con il patrocino del Comune di Acquiterme, con la collaborazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Provincio di Alessandria, Asti e Cunio e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. L'esposizione fa parte del progetto trassecolare, attraverso i secoli con un po' di stupore, ideato e organizzato dall'Associazione Amici di Musei Acquesi e inaugurato nel 2019 con la mostra di Alice Cattaneo. Paesaggio Minuto, la mostra creata ad hoc da Luca Pancrazzi per gli spazi del Museo Archeologico di Acquiterme, è un continuo gioco di rimandi visivi e riflessioni spazio-temporali. Convivono nelle teche i reperti archeologici e l'ultima affascinante produzione dell'artista, forme archetipe di automobili inserite in paesaggi metafisici e piccoli paesaggi urbani di terracotta, realizzati con i minuti contati, con quell'asso di tempo che assomiglia al tempo di arrivo tra un minuto. Sono paesaggi minuti perché magri e piccoli, veloci al tempo stesso che trasmettono la potenza del materiale e l'energia in scala della terra. Sono sculture realizzate durante il periodo di spazio e di tempo a rarefazione modificata, realizzati cioè in quei momenti dove il tempo si dilata in maniera intima. La mostra sarà visitabile dal mercoledì al sabato con orario 9.30, 13.30, 15.30, 17.30 e la domenica con orario 11.13.30, 15.30, 17.30.